La squadra di pallavolo femminile della Megabox Vallefoglia e la sua città d'appartenenza si mescolano sempre di più. Un'unione rinnovata oggi dalla presentazione delle nuove maglie da gioco che le ragazze di Coach Buonafede useranno per le amichevoli di precampionato. Una divisa pittoresca creata da Michele Annibali e realizzata da Errea che riporta sul suo tessuto le peculiarità e i luoghi più simbolici del comune di Vallefoglia e non solo. Dalla corona alla Ghirlanda presenti nel logo della città, dall'antica mappa del territorio al castello di Montefabri fino a passare per Ponte Vecchio e i torricini del Palazzo Ducale di Urbino. La città che anche per questa stagione ospiterà le partite casalinghe della squadra del Presidente Ivano Angeli. Questa nuova maglia ideata per valorizzare il territorio la useremo come hai detto tu nella fase precampionato. La prima uscita che faremo sarà questo weekend che andremo in Valtellina a Sondrio dove ci sarà il primo quadrangolare di quest'anno a cui parteciperemo. Saranno quattro squadre Vallefoglia, Bergamo, Bussarstizio e Cremona. Sarà già un test importante per vedere la qualità della squadra. Questo è il primo debutto, poi seguirà il 24 di settembre in casa la prima amichevole casalinga contro la Balducci Macerata. E poi i primi di ottobre andremo a fare un quadrangolare a Casal Maggiore. E poi ci sarà il classico chiusura delle amichevoli nel torneo di Firenze dove saremo ospitati e dove saremo già in fase avanzata di preparazione dove ci sono dei test molto importanti. Una soddisfazione per noi importante grazie a Angelia Megabox e grazie a coloro che ha riassunto i rapporti fra la città di Urbino e la città di Vallefoglia attraverso la figurazione di Montefabbri e di Pontevecchio. I legami tra il Duca Federico e Pontevecchio con il vecchio Molino, molto legato a Urbino, testimoniano i rapporti e le relazioni fra queste due città. Ci auguriamo ovviamente che sia di buon auspicio anche perché ci siano tanti spettatori alle partite che si svolgeranno a Urbino e abbiamo anche buone ragioni per pensare che quel 1.600.000 euro per portare a 8 metri e 1.500 posti al palla di Unigi da parte dello Stato nel PNRR possa avere chance e che può aumentare enormemente anche la partecipazione a vedere le partite. Sicuramente la squadra è secondo me ben costruita, c'è molto equilibrio in tutti i reparti. Ci sono personalità forti, tante italiane, tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene. Vedo su ragazzi giovani quindi un bel mix, c'è un bel mix di esperienza e di gioventù. Quindi secondo me è una bella squadra che può essere una bella sorpresa per il campionato però non voglio dire nient'altro, non mi voglio sbilanciare troppo. Adesso ci saranno i primi tornei, le primi amichevole, vediamo i primi test come siamo. Ti piace la maglia? Sì, molto, molto, mi piacciono i colori, poi ci sarà quella ufficiale però come inizio è perfetto. Come sei stata accolta a Vallefoglia? Benissimo, io ho bellissimi ricordi di quando ho giocato a Rubino nella Chateau d'Axe quindi non è uguale ma mi sento in famiglia, conosco già i posti, conosco un po' tutto e questi luoghi così familiari mi piacciono, sono fatti per me. Grazie.